Perché il tempo fugge, ruittora, come dicevano i latini. Pare ieri, pare ieri, il tempo veramente vola, perché soltanto ieri io stesso che vi sto parlando ero un ragazzo. Io quando ero ragazzo ero alto, bello, ero biondo, quasi moro, ho certi occhi, occhi azzurri quasi verdi, addominali da paura, ho una ventina di addominali messi qui in ordine sparso, ero un giovane pieno di speranze. E mo, ecco, invece l'altro giorno, io camminando per strada, per fatti miei, perché io quando cammino sto sempre per i fatti miei, e a un certo punto ho sentito un giovine, un ragazzo, insomma, che stava lì, mi ha chiamato, a Brignano, te riconosco, a Boomer, Boomer, l'ho guardato, gli ho detto, che hai detto, Boomer, ripetilo se hai coraggio, Boomer, Ah, c'hai coraggio a ripetere le cose, eh? Io, Boomer, io guarda, non so quello che vuol dire, quindi non te meno, ma mo' me informo, se è una cosa brutta, torno qui, tacchiappo e de meno. Ma quando tacchiappo, Gabriele, so Boomer, in effetti io mi sono andata ad informare e ho saputo che cosa significa Boomer. Boomer è un termine inglese per indicare quelli che, come me, sono nati negli anni Sessanta, Cioè, ecco il boom economico, Boomer, come passa il tempo e come il tempo si sposta, come si sposta il baricentro del tempo. Perché io, quando ero ragazzino, che ne so, al muretto dove usavo stare a Dragona, vedevo, che ne so, uno un po' agé, un sessantenne, magari con i capelli brizzolati, e dicevo da giovane, non vedi quello che è vecchio, o sai quant'anni c'ha? C'ha almeno sessant'anni, quello c'ha già un piede nella fossa. Oggi invece, che sto dall'altra parte della barricata e vedo un signore giovanile, magari imbiancato, e dico, madonna quello, vedi quant'è giovane, c'avrà sì e no sessant'anni. E' che cambia la cosa. E in effetti, secondo me, chi ha sessant'anni non si può definire vecchio, tutt'al più si può definire boomer o vintage. Vintage è una cosa bella, interessante, ha ancora un certo valore uno vintage. Pensiamo, per esempio, a questa foto. Eccola qua. Questa, per esempio, è una foto che ha sessant'anni, si vede lì da una data, esattamente 1962, quindi pari pari sessant'anni. Qui in questa foto siamo ad Hamburgo, in Germania, nel quartiere a luci rosse della città, un posticino un po' malfamato, diciamo, della città di Hamburgo. Questo locale, come vedete, è lo Star Club. E c'è ancora oggi questo locale, sta al 39 di Crosse Friday. E ora, nel 62, già come si vede dalle insegne, offriva a questo locale, indifferentemente, sullo stesso palcoscenico, musica e striptease. Uno vale l'altro. Infatti sulla sinistra, in alto, si vede, no, lì sulla sinistra, c'è un nome di un gruppo, vedi qua? C'è scritto quattro ragazzi, appena vent'anni. The Beatles, questi venivano da Liverpool, erano appena riuniti. Non li conosceva nessuno all'epoca, erano quattro. Erano John Paul, George e Ringo. Ringo non era quello a cavallo con il pistolero, no. Ringo era un batterista, arrivato, callo callo, soltanto da un mese, a sostituire Pete Best, che non era tanto bravo come batterista, ma aveva un carattere veramente, era un test, veramente un cagano, era, non era, diciamo, non era affabile. È finita male con questo batterista. Pare che alla fine abbiano litigato, sono volate parole grosse, e il batterista gli abbia tirato i piatti della batteria. Insomma, perché i tre gli hanno detto, basta, tenetevi a nà, noi ti licenziamo. Ah sì, mi licenziate, disse Pete Best, mi licenziate? Bene, allora sai che vi dico? Che voi non siete quelli che mi licenziate, sono io che me ne vado. Ha ha ha, come dice il detto inglese, io sono Best, il migliore, e sono sempre i migliori che se ne vanno. Perciò me ne vado, bravi, bravi, Beatles, che razza di nome! Razza di nome! I scarafaggi, perché Beatles significa scarafaggi, senza di me, cari Beatles, dannate! Con sto nome, così il batterista se è nato, il tamburo battente se ne è nato. Ma torniamo a questa insegna. Come vedete qui c'è scritto alternate, vedi, c'è scritto live, alternate live, cioè i Beatles si alternavano sul palcoscenico con altri artisti. Dice, ma quali erano? Stanno tutti scritti là sopra. In alto, lì su, c'è una donna nuda con la scritta erotic. Chissà che locale era, cioè nel senso chissà cosa intendeva quella scritta. Io per carità non sono mai stato in un locale erotico, per cui non so, sarà uno di quei posti che io non ho mai stato, dove le donne ballano in abiti succinti e si fanno infilare le banconote tra il lusco e il brusco e il frunner fresco, sai che si dimenano. Io parlo per un amico, cioè per carità, io non ce ne sono mai stato, quindi dico, si ipotizzo, sai tutte quelle che, però lasciando un po' la fantasia andare, a D'Amburgo, a Dupassi della bassa Sassonia nel 60, io me le immagino queste spogliarelliste tedesche, un po' ruspanti, ariane, sai, quelle sassoni, quelle vichinghe, possenti, da 60, 60 che non è l'età, cioè è la taglia, 60 belle piazzatelle, quindi delle donne, e secondo i canoni erotici dell'epoca ed estetici, queste donne non solo erano belle piazzate, con belle giù, 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 ma la depilazione non era proprio di quegli anni, no? Non era consuetudine, non c'era la lotta al pelo come c'è oggi, cioè le donne andavano così, infatti si vede dalla modella, l'insegna non si vede, ma sotto l'ascella, c'è l'ascella pezzata col pelo, cioè con quei ciuffi di asparagi che escono prepotentemente da sotto al braccio, ora, se tanto mi dà tanto, con tutto col pelo sopra, lì, nella bassa Sassonia, ci saranno state delle zolle de muschio che levate, e queste signorinone, dava una bella birra, così sul palco, con la musica, con gli uomini tutti arazzati, che stavano lì, con la musica dei sottofondo, e queste uscivano, che si spogliavano, con la birra, così, così, tre fischi derenne, dassi stressen skiernei, die der Eise, die reischen, die Leren, die den Zeiche. Ma, mo, finché se doglievano la parte de sopra, sai, due seni prorompenti ricordano un po' la mamma, sono quasi naturali, la gente si eccitava, cioè gli uomini si arrazzavano, fanno sempre effetto due bei seni, ma quando lì, col locale un po' a buio, con quella musica un po', quando arrivavano alla parte di sotto, che levato lo slip c'era quella foresta nera, anche gli uomini più temerari vedevano questa, anche lì facevano, oh, buona, chi c'è abita là dentro, mo' esce qualche animale serbatico, damoglielo il zuccherino, oltre a queste esibizioni erotiche così, come si vede sempre dalla fotografia, in questo alternate live c'era un altro personaggio su quel palco, e lo vediamo lì, vedi, quel Benjamino, Benjamino and the brothers, Benjamino e i fratelli. Ora, Benjamino e i fratelli era un gruppo formato da un cantante italiano, un diciottenne proveniente dalla Calabria, Benjamino, o Benjamino come dicevano i tedeschi, che altri non era, se non il nostro, Mino Reitano. E i fratelli della band erano proprio i suoi fratelli, tutti provenienti dalla Calabria, aveva dieci fratelli, tutti veri, cioè veri, 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 veri. Allo Star Club in quegli anni bisognava suonare per contratto dalle dieci di sera alle cinque del mattino, defilata sette ore senza pausa consecutive. Quindi in sette ore si passava dai Beatles allo striptease a Mino Reitano. Da Mino Reitano, striptease, Beatles. E viceversa. Si cominciava, si cominciava, She loves you, yeah, 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 she loves you, con the high fish in the rain. Avevo un cuore che mi amava tanto. Con the high den, vive. Yesterday si alternavano. Ora tu immagina sette ore così tutte le sere, no? Dopo la settimana, gli artisti erano leggermente stanchi, alle cinque di mattina, mentre albeggiava, questi sul palcoscenico si sono incasinati. Quindi c'erano Lennon e McCartney in mutande sul palco che si sfilavano gli slip l'un l'altro, Mino Reitano che suonava contemporaneamente il violino, il pianoforte e tromba, mentre una bionda tutta mezza nuda col caschetto cantava Avevo un cuore che ti amava tanto. Diciamo così che erano dei turni massacranti, veramente. Tanto che i Beatles hanno dichiarato più volte che all'epoca prendevano anfetamine che aiutavano a tenere quei ritmi così disumani. Così una sera, nei camerini dello Star Club, mentre Paul McCartney, per aiutarsi stanco, prendeva alcune pasticche, chiese a Mino Reitano, che stava suonando 6-7 strumenti, chiese, Benjamino, «Ehm, che c'è? Ma levami una curiosità, ma tu, ma come fai a suonare tutti questi strumenti senza stancarti mai? Che droghe usi?» E Mino Reitano, «Ah, quale droga? Viene a ca». Con fare circospetto, prese un cartoccio arrivato dal paese e disse, «Io prendo queste, dalle pure all'amicitoi!» E fece assaggiare un mix di liquirizia soppressata e in duia. Capirai, i Beatles si sono messi là, andarono in ecstasy. Ringo, ultimo arrivato, se l'è finito. «Ah, oh my God! Good, the sopressation! Mom, oh my God! Sparmate d'anduia!» Insomma, è così, i Beatles divennero da quel giorno dipendenti dalle specialità calabresi. Questo è storia. Qualche critico musicale, infatti, pensa che la canzone Lucy in the Sky with Diamonds, tramite le iniziali delle parole, parlasse proprio di LSD, cioè l'acido lisergico tanto diffuso, purtroppo, in quegli anni tra i giovani. Non è vero. Pare che l'LSD dei Beatles fosse proprio liquirizia soppressata e in duia. Quella che gli aveva dato minoretano. Grazie a quella convivenza a D'Amburgo, proprio 60 anni fa, uscì il primo singolo di successo dei Beatles. Love me, too. Love me, too. Anche se molti non lo sanno, e stentano anche a crederci, Mino Reitano è stato la musa ispiratrice dei Beatles. Paul McCartney, infatti, ha dichiarato che la canzone Yesterday, yesterday, ecco, il suo capolavoro, all'inizio si chiamava Scrambled Eggs, uova strapazzate. Perché questo? Perché Mino Reitano, in azione la mattina, a colazione intorno ai 5 di mattina, lui, prima di andare a casa, lì dentro al locale, nei camerini, faceva le uova strapazzate per tutti. Perché lui aveva le uova portate dal paese, quelle uova buone. E ripeteva a John Lennon, John Lennon lo guardava così, lui diceva, ah John, per partire bene la mattina, tutto quello di cui hai bisogno è un uovo, ricordati, hai bisogno dell'uovo, hai bisogno dell'uovo. E John Lennon, infatti, scrisse, all you need is love. E zaccate, secondo successo. Un'altra volta, Mino Reitano, rimase, Mino Reitano, per lavare la padella con cui faceva le uova strapazzate, rimase chiuso nel bagno dei camerini, perché si era rotta la maniglia. E gridò, aiuto, aiuto, aprite, aiuto, ho bisogno di qualcuno. Poi dice, ma non mi capisco, help, help, I need somebody, help, help, I need somebody. E i Beatles, zacc, altro successo. Insomma, il vero quinto Beaton, la mente, l'ispiratore, il genio, e anche un po' lo spacciatore d'enduia, è stato Mino Reitano. Ma tu sai a Reitano i Beatles quanto gli dovrebbero dare DCA e lasciamo perdere, guarda. Solo che quando lui raccontava queste storie, la gente, gli italiani dell'epoca, non ci credevano. Però, e di tante volte la rivincita, nel 1988, quando Mino Reitano partecipò al festival di Sanremo con la canzone Italia, Italia, di terra bella è uguale, non ce n'è, non so se ve la ricordate, quel Sanremo lì, guarda caso, il super ospite di quel Sanremo era proprio Paul McCartney e la prima cosa che chiese Paul alla conferenza stampa davanti a duemila giornalisti fu dov'è Mino? Dov'è Benjamino? e lì praticamente si è capito che Paul McCartney, il grande cantante e compositore che ha fatto la storia della musica mondiale stava ancora rota con l'anduia di Reitano dopo 25 anni di astinenza.